Ma cosa dobbiamo fare oggi? Briscola Briscola, giusto? Abbiamo Simone per giocare a 3-7 Ah, ma io non so, io lo so fare a giocare soltanto a 3-7 Ah no, capa camilla Che cazzo, che cazzo Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Pite Channel Sono Maga, lui è Dalm E oggi abbiamo il grandissimo Simone Bianchi come ospite Commentate, condividete, mi piacete questo video Oggi siamo qui per il Batman dei 2021 Abbiamo Simone Simone, vai, presentati, fai tipo il Giorgio Mastrota Che è la vado di io No, no, l'ho già fatto ieri L'ho già fatto ieri più che abbondantemente Per presentare quella che è una rarità Perché mentre pranzavamo Mi è tornato in mente Che in realtà io un firma copia, signing Chiamatelo come volete All'interno del negozio Non lo faccio da un... Ma veramente anni e anni e anni Abbiamo fatti due a fila Due a distanza di sei mesi A Midtown Comics A Times Square New York Perché ero là proprio fisicamente E pochi... In Toscana un paio di volte Al mio negozio storico di Lucca Basta, cioè... Perché era una cosa... Infatti giuro che non so... T'ho detto di sì perché... Perché sì... Era in piena pandemia Non c'era il Covid Era sempre a casa E io l'ho fregato in diretta di Instagram Vieni su un negozio Mi fa sì E era registrato No, non era piena pandemia Quando abbiamo fatto la diretta di Instagram No, lei sarebbe stato... Sei mesi fa Per altri ci sarebbe anche una super altra Grande mega notizia da dare Che te sai Eh sì, lo so Ma siccome non ho avuto ancora il tempo Di iniziare a farlo E lo aspettiamo E aspettiamo un altro Però inizio... Un paio di settimane Bene Quindi abbiamo l'esclusiva Sì, abbiamo l'esclusiva Sì, no, no Vi do... Registratemi Vale come prova Che lo do volentieri Attraverso i vostri social Questa notizia Che in realtà È già una cosa fatta Cioè fatta Che devo fare Per cui ho già firmato il contratto E che però Causa l'altra mostra Che poi magari Ne parliamo a Metropolis Ho dovuto Rimandare semplicemente Avendo purtroppo Soltanto due mani Quelle sono Allora Per chi ragazzi Non conosce Simone Perché magari Qualcuno che segue questo canale Non leggi i fumetti O vive su Giove O vive su Giove Esatto È un disegnatore Ovviamente Per la Marvel Per la DC Ma non solo Hai lavorato Penso Per qualsiasi Casa È a livello Diciamo Di editorialità A fumetti Sì Marvel DC Netflix Image Prima Per la Comic Art Vittorio Pavese Ha fatto Ma me ne scordo Sicuramente Anche perché A livello anche solo Di copertine Ho fatto tante copertine Magari singole Per case editrici Di cui ignoro No Però è vero che per Giusto per dare così Un'inquadratura Dal 2006 Al 2018 Che quindi sono Per 12 anni Lavorato solo Proprio esclusivamente Per contratto Per la Marvel Perché all'epoca C'era molto Questa idea Della guerra Fratricida Marvel DC A rubarsi Sia scrittori Che disegnatori Mi sembra sia Un pochino Scemata Non è In quegli anni Negli anni zero Diciamo Finire Sul finire Gli anni zero Invece era veramente Un big deal Come dicano loro Quando l'era iniziata Marvel Night Eh Poco dopo Sì poco dopo Con Quesada Perché Quesada Appena Si mise Alla guida Della Marvel Decise Allora Visto che Internet oggi Ci dà la possibilità Di entrare in contatto Col mondo intero Iniziamo a assumere Talenti stranieri Da qualsiasi parte Del mondo Che secondo noi Sono adatti Alle nostre pubblicazioni Non ci limitiamo Soltanto più Agli artisti Nord americani E questo sicuramente E stessa cosa Ovviamente Stesso atteggiamento Di apertura Diciamo Internazionale Valeva anche Per gli scrittori E cioè Joe Ha veramente Secondo me Che Sada Che non solo Perché è un mio carissimo Amico È assolutamente Sottovalutato In generale Proprio Nella percezione Della Marvel Come entità Non solo Marvel Comics Parte editoriale Perché chi veramente Ha gettato le basi Anche per il Marvel Cinematic Universe È stato Joe Che è un Io lo adoro Su Daredevil No Al di là Della bravura Al di là Della bravura Un dissenatore Con una personalità E delle idee Veramente Ma al di là Di quello A livello imprenditoriale È quello Che ha trasformato La Marvel In una casa editrice Quasi sull'orlo Della bancarotta A fine anni 90 Nel colosso gigantesco Che ora Non per niente Poi è stata anche In qualche modo Centrale Nella Proprio Nella transizione economica Di vendita Alla Disney È veramente L'uomo veramente Dietro alla Marvel Dopo Stan Lee Secondo me Ora Ho fatto questa digressione Perché non ne parlo mai Ma lui veramente Ha fatto la grande differenza E di ripeto Io mi ricordo una volta Quegli aneddoti Secondo me Sono i più belli Da raccontare All'intervista Era in vacanza In Toscana Mi chiamò Era sotto Arezzo In una casa Che avevano affittato E lì mi disse Guarda Ci siamo resi conto Che il passaggio Da fare ora Eravamo proprio In giardino Dai fumetti E cinema Perché avevamo visto I risultati E quindi bisognava Prendere questo rischio Qui E prendete Stava nascendo Quello che poi È stato Il sì e il mio Mi sono dilungato No no È bellissimo Anche perché Le nostre interviste Ma lo sanno Chi ci segue Sono a Geto Quindi non abbiamo Niente di preparato È tutto Farina del nostro sacco Del nostro cuore No ma ce n'avrei Ovviamente In 20 Perché poi Prima degli Stati Uniti Ho lavorato Tanto comunque Anche in Italia Sia per Casa editrice Che anche Come pittore Quindi per Mostre Gallerie Committenze private Quindi è chiaro Anche di aneddoti E cose Ce ne ho da raccontare Lo incastriamo In una live Per YouTube Dove parleremo Degli aneddoti Le chiamiamo Gli aneddoti Di Simone Due volte Già fregato Due volte Ragazzi Va bene Va bene Ha introdotto Il mondo cinematografico Quindi abbiamo Una domanda Da farti Sul mondo cinematografico Legato ai fumetti Noi Stando su YouTube Parlando di fumetti Tanti ragazzi Che vogliono avvicinarsi Al mondo del fumetto Perché vedono il film Perché sono appassionati Devi superare Sia appassionati E per fortuna Esatto Qua voglio arrivare Questo interesse Si è riversato Poi anche Nell'ambito lavorativo Cioè Tu lo senti Questa pressione Dal cinema A livello fumettistico Allora No Ti ho la domanda È una cosa A cui già spesso Abbiamo pensato Sì È inevitabile E è È stato inevitabile Che Questo interesse Che è diventato Mainstream Laddove invece Quando io Avevo Dieci anni Quindi voi Eravate ancora Nelle idee Le vostre Buon per voi Leggere fumetti Era veramente Una cosa Da fare di lato Hai capito Già la musica Era molto più Mainstream Anni 60 Anni 70 La musica Era già Completamente La musica Contemporanea Da rock Qualsiasi genere Il prog Era già Completamente Mainstream Mentre i fumetti Ancora Soffrivano Fra mille Virgolette Di una Marginalità Diciamo Che invece Il cinema Li ha Ha sdoganato Completamente Tornando Alla tua domanda Senza ombra Di dubbio La prima cosa Che mi viene in mente Anche egoisticamente Ovviamente È il mercato Delle tavole originali E anche Anche il valore Che hanno preso Lascia stare Le nostre La mia generazione I miei colleghi Quindi I nostri Lavori Perché ci siamo Trovati in una Congiunzione Diciamo Astra Temporale Astrale Veramente Positiva Però è chiaro Che è stata Una diretta Conseguenza Fino a 25-30 anni Quando non esisteva Come esiste oggi Oggi è veramente Un mercato Importante Un mercato Che ovviamente Non è paragonabile Al mercato Della fine art L'arte Veramente Di serie A Eccetera Eccetera Però Ci si sta avvicinando A passi Da leone Insomma Guarda Vi faccio un esempio Visto che sicuramente Lo sapete Non più tardi Di una settimana fa Il mio amico John Dolmire Nonché batterista De System of a Down Di Torpedo Comics Hanno annunciato John è molto Molto amico Di Jim Lee Che mettono Che mettono In vendita Attraverso Torpedo Comics Così Facciamo un po' Di pubblicità Che fa bene Comunque a tutto Il movimento La famosissima Copertina Di X-Men Numero 1 Claremont E Jim Uscita All'inizio Gli anni 90 E si parla Comunque Di una valutazione Che va dai 2 ai 4 milioni di dollari Che è una valutazione Veramente da fine art Ecco In questo Cioè in queste valutazioni In questo aumento Anche dei prezzi Io ti parlo Del mercato originale Ma si potrebbe In grosso modo Fare la stessa considerazione Per il CGG L'ho pronunciato bene CGG Bartolo dici in italiano In italiano CGG CGG E poi L'ho sempre sentito dire CGG Che anche quelle Quelle valutazioni Torno a ripetere A citare A citare Il mio amico Zurzolo A Metropolis Quando vennero Di Action Comics A 3 milioni e 4 3 milioni e 6 Cioè Sono cifre Veramente un po' Stordenti Ma sono cifre Che sono molto Figlie Dell'interesse Ormai Mainstream Come quello Che è successo Con il rock E la musica Negli anni 60 70 Quando si è diffusa A livello Globale E in modo Molto capillare E' chiaro Che anche Anche gli interessi Economici E anche All'interno della musica E quindi anche L'interesse Diciamo Dei media Del racconto Di quello che succede Nella musica E' cresciuto Esponenzialmente Di pari passo Senza ombre di dubbio Tutto quello Che è stato La parte E che è La parte cinematografica Sia Marvel Che DC Però vorrei dire Non per essere di parte Non lo sono più Sono freelance In questo momento Però più Secondo me Permanente Della Marvel Ha inciso enormemente Nei risultati A cui assistiamo oggi Per quanto riguarda Come domanda Finale Tanto dopo Ve lo porteremo in live Ragazzi Quindi La potete chiedere Anche voi Quello che volete Al buon Simone Ma Fai una mostra Lo sappiamo Perché abbiamo visto Un po' di anticipazioni Sulle tue Sulle tue pagine Instagram E anche Su Facebook Allora La mostra Si terrà presso La galleria Metropolis Di proprietà Di mio caro amico Vincent Giurgio E il suo socio Il cui nome Mi sfugge sempre La galleria In cui già In realtà Nel 2018 Io Esposi Insieme a Vincent La metà Dei dipinti Che avevo Realizzato Allora Per la Marvel Masterpieces La metà Erano lì La metà In contemporanea Lucca Alla chiesa Dei selvi In queste due Location Diametralmente Oppose Viene una chiesa Tarbe Rinascimentale E la galleria Proprio è al terzo Piano di questo palazzo Sulla 37esima strada Che è successo È successo La mostra Devo dire Andò molto 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 Bene Da Vincent Vincent è una persona Con cui sia Io Che ormai La mia socia Braccio armato Della Simone Bianchi A che Gloria Ci siamo sempre Trovate molto bene A lavorare A un certo punto Circa un anno fa Mi inizia A studiare No La realtà è che Subito Pre pandemia Fecero come ultima mostra J. Scott Campbell Che andò Molto Molto Bene Con un opening night Cioè una vendita Nell'arco Delle 12 ore Nocturne Incredibile Che io ovviamente Mi propongo Di superare Per il minimo Però Poco dopo La mostra Di Scott Di J. Scott Vincent Inizia a dirmi Simone ma perché Aveva visto Dei pezzi Ma questo Ce l'hai No Mi disse Simone ma perché Non ti inizia a mettere Fra virgolette Da parte A Conservare Un po' Di pezzi Che così Le reiniziamo A prendere Seriamente In considerazione L'idea di fare Un'altra tua Personale Quindi E' solo tu E' solo tu Sì c'è anche Ken Lasci Siamo in contemporanea Perché Però in realtà Era nata come Personale Quindi sarà Bi personale Chiamiamola così Avevo capito Ma è perché pensavo Fosse tipo Una mostra Tipo più No no Ma è meglio Siamo solo io E' meglio E' in realtà Doveva essere solo io La mostra doveva essere agosto Però te lo dico Con grande tranquillità Non avevo fatto in tempo A finire tutto quello Che avrei potuto fare E tutto quello Perché mi aveva suggerito Di fare anche Vi faccio un esempio Ovviamente E' una mostra Molto Comic book Focalizzata Sul comic book Però C'è per esempio Una recreation Della copertina Dei Kiss Di Destroy Del 1978 50 per 50 Completamente dipinta Eccetera Quindi ci sono anche Altri Dipinti Che esilano Leggermente Da Da quello Che è il consueto Mondo dei supereroi Dei comic book Eccetera Eccetera Inaugurerà L'8 di ottobre Che mi sembra Siamo venerdì Che è praticamente L'inizio del weekend Della New York Comic Con Dove A mio Con mio Grande O con mia grande Tristezza Non andrò Perché però Venuti di Covid Related Non c'è proprio Modo di Quarantennizzarmi Prima Quarantennizzarmi Dopo Poi dopo c'è Luca Pantissimo dopo Però detto Questo ci ho lavorato Praticamente Tutto l'anno Quindi in parte Sono copertine Di quelle Che ho realizzato Che in parte Mi sono state Vedendo Durante l'anno Per la Marvel E per la DC Ci sono circa 7-8 copertine dipinti Adesso Sono tutti Sono altri 25-26 dipinti Inediti Realizzati apposta Per la mostra E almeno altri 25-30 Ci sono tutti Layout Di Ghost Box Di Astonishing X-Men La storia Che allora Nel 2008 Di seminare Con Warren Ennis Capito Che figata Sarebbe benissimo Avere anche Da noi Possibilità Di fare Rota del genere Ma anche Più che altro A livello Di interesse Perché Come parlando Con te Gli appassionati Ci sono E che comunque Sono Anche numericamente Molto Minori Rispetto Agli appassionati Americani Di tavole Originali Eccetera E allora È vero Ma fino a un certo punto Nel senso Che ti assicuro Che ora Poi Grazie Grazie a Dio Siete più giovani Di me Ma nella mia generazione Già il numero Di collezionisti Seri Cioè persone Che acquistano Investano Seguono Soprattutto Il mercato Quindi fanno Proprio un lavoro Di Scouting Anche E di controllo Del mercato Ce ne sono Ce ne sono Tanti E sono sparsi Bene Su tutto Il territorio Nazionale È chiaro Ragazzi Che in America Anche però Venuti di numerici E di vide E c'è Ci sono altre Possibilità Ci sono C'è un numero Ovviamente Di collezionisti Però In Italia Ci sono Grandi Ardile Ci sono Gallerie Tipo La carte Gallerie A Roma Che Che presente Si occupa Solo Escutivamente Di questo Ci sono A Parigi Ci sono Diverse Gallerie Solo Escutivamente Dedicate Al mondo Dei comics Come le chiamano Loro Ma anche Dei comic book Dei comic book Americani E della band Dei comic book Sono americani E della band Disney Quindi ci sono Realtà È vero Non sarà Se entra Neon comic book Come ti dicevo E vedi CGG O CSG Che tu la voglia Chiamare Ci sono Fili Chilometri Che qui Ancora Magari Non ci sono Ma le file Ce le abbiamo Nelle fiere Nel senso C'è E poi Soprattutto Mi sembra Ci sia Un discreto Di cambio Di generazione Vedi Il mio nipote Che ha 13 anni Altra giornata È venuto A trovarmi Un altro Il figlio Del mio jardiniere Che ha 13 anni Anche lui Che invece Sono veramente Curiosi Ovviamente Probabilmente Anche stimolati Da Tutta La parte Di video Cinematografico Bene Ok Bella Grazie Ragazzi Mi sono Divertito Perché Al prossimo Live È stato proprio Un accenno Sì esatto Anche perché Siamo con i tempi Strettissimi Dobbiamo aprire Ci sono I clienti fuori Con le torci In forconi Per aprire Il negozio Ragazzi Quindi dobbiamo Tagliare Ma Voi iscrivetevi Al canale Seguiteci Su tutti i social Vi metto anche I link sotto Ovviamente Di Simone E il nostro Aster Che è sempre Il solito Io sono Virtuale Grazie Ragazzi Ciao Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti